per darvi un'idea del prezzo delle cose 5 magliette, un pacco di mutande, 3 camicie, 2 jeans, un maglione, un pacco di calzini e il cappello 5 t-shirt, un pacchetto di slibar, 3 chemise, 2 jeans, un pull e un tas di chaussette plus le chapeau tutto questo lavato, le 3 camicie stirate per 5 ore e 50 cazzo, mi sporco, savo la pende si salia